i ragazzi della via pal sta tranquilla che farò attenzione rispose fra sé sé il biondino e senza frenare la corsa ma ben riparato dal capannone raggiunse i primi cumuli di legna dietro la casetta dello slovacco si fermò un momento per prendere il respiro e decise subito che sarebbe stato più al sicuro sulla cima di una catasta la più vicina era così vicina anche alla capannina che il tetto spiovente di questa quasi quasi la toccava il ragazzino si arrampicò e si appiattò sui grossi tronchi era il posto ideale per osservare tutto senza essere visto attese meditò che cosa infatti poteva volere gerebbe dal custode notturno si trattava forse d'un passo tattico d'un tranello delle camicie rosse si sentì sempre più decisa ad ascoltare a qualunque costo il colloquio quale gloria sarebbe stata per lui se fosse riuscito a scoprire un nuovo tradimento mentre indugiava in questi pensieri gioiosi non perdeva d'occhio il terreno circostante e così scorse subito gerebbe quando sbucò da una viuzza il ragazzo avanzava piano con passi cauti voltandosi a ogni piesso spinto nel timore che qualcuno lo potesse seguire solo quando si sentì al sicuro di non essere pedinato osò fare in fretta gli ultimi metri che lo separavano dal casotto lo slovacco seduto sulla panca davanti al suo capannino fumava beatamente nelle pipa le cicche di sigaro che gli fornivano regolarmente i ragazzi infatti tutti i ragazzi di via par raccoglievano cicche di sigaro e per gianò ettore che stava cucciato ai suoi piedi si direzzò all'avvicinarsi di gerebbe abbaiò anche due o tre volte ma quando vide che si trattava di uno del grund riprese la sua comoda posizione di prima il ragazzo si direzze decisamente verso gianò in modo che nemex non riuscì più a vederlo ma il biondino ormai era scatenato piano il più piano possibile passò strisciando dalla catasta sul tetto del capannino e continuò a strisciare sulle ripide assi che di tanti intanto scricchiolavano da fargli raggerare il sangue nelle vene tuttavia riuscì a raggiungere felicemente l'orlo superiore del tetto e da lì sforse la testa per vedere che cosa stava per succedere davanti alla porta del casotto ci arrivò in tempo proprio in quel momento gerebbe si fermò davanti allo slovacco e lo salutò con un largo sorriso buongiorno ya no buongiorno borbottò il guardiano senza nemmeno togliersi la pipa di bocca gerebbe ora si chinò verso di lui e con un'aria di importanza gli sussurrò vi ho portato dei sigari ya no a queste parole lo slovacco si tolse la pipa di bocca e nei suoi occhi balenò un lampo di gioia ben rare volte nella sua vita gli era capitata la straordinaria fortuna non soltanto di fumare ma anche di vedere un sigaro sano a lui di solito i sigari giungevano in forma quanto deteriorata quando cioè gli altri già ne avevano fumato la maggior parte e migliore gerebbe tirò fuori di tasca tre sigari li cacciò nella mano dello slovacco ma guarda guarda disse fra sé nemetsex ho fatto proprio bene ad arrampicarmi fin quassù se comincia con regalargli dei sigari finirà col chiedergli qualcosa di l'urido in contraccambio infatti senti gerebbe dire a voce bassa perché non entriamo nella casetta ya no voglio parlarvi di qualche cosa ma non qui fuori non voglio che mi veda qualcuno si tratta di una cosa importante un affare d'oro per voi potrete guadagnarvi altri sigari e trasse di tasca una manciata di sigari sul tetto nemetsex scrollò la testa deve trattarsi di una cosa molto sporca pensò si ha portato con sé tanti sigari lo slovacco al colmo dell'eccitazione non si fece pregare dentro in fretta nella casetta gerebbe lo seguì e dietro gerebbe entrò senza essere invitato anche ettore nemetsex si sentì vicino alla disperazione non udirò più nemmeno una parola di quel che diranno tutto il mio piano così ben costruito se ne va al diavolo e provò una profonda invidia per il cane che si era potuto intrufolare nel capannino prima che la porta fosse chiusa perché quei due avevano persino chiuso la porta dietro di loro a nemetsex venne in mente una fiaba nella quale un orribile fattucchiera trasformava il figlio del re in un cagnolino nero o in quel momento nemetsex avrebbe dato qualsiasi cosa anche dieci palline di vetro colorate magari anche venti se fosse apparsa improvvisamente la vecchia strega e biaccicando qualche formula magica l'avesse trasformato in un cane nero più esattamente in ettore e se c'era proprio bisogno avesse mutato ettere in un piccolo biondo nemex che sarebbe rimasto appiattato sul tetto mentre lui sotto aspetto canino avrebbe ascoltato tranquillamente la conversazione di quei due ma anziché una vecchia maga gli fu di imprevisto aiuto l'opera di un esserino altrettanto meraviglioso seppure più reale un semplice tarlo che con un lavoro infaticabile e in collaborazione con la sua famigliola sempre affamata si era saziato nel corso degli anni del buon legno tenero del tetto rosicchiandone per benino un asse senza mai pensare quale grande servizio avrebbe reso ai ragazzi di via pal nemex infatti osservò che mettendo l'orecchio su certi punti del tetto gli arrivava dal di sotto un brusio di bisbigli confusi e allora agitatissimo si mise a cercare il punto migliore e scoprì ben presto e con sua indicibile gioia l'asse che faceva al suo caso poteva dire così distintamente ogni parola della conversazione nonostante jereb parlasse sottovoce non tanto per paura di essere spiato ma perché aveva la coscienza sporca via no ragionate disse avrete tutti i sigari che vorrete ma dovete meritarveli allora di che cosa dovrei fare borbottò lo slovacco cercando di dissimulare la sua abilità beh non dovrete far altro che cacciare via i ragazzi del campo non permetterete più che vengano qui a giocare a palle che mettono a suo quadro le cataste ci furono alcuni istanti di silenzio nemex ne dedusse che l'orlovacco stava riflettendo poi udì di nuovo la voce di jano devo cacciarli sì e perché perché ci sono altri ragazzi che vorrebbero venire qui a giocare e sono tutti ragazzi ricchi avrete tanti sigari quanto ne desiderate soldi quest'ultima parola produsse il suo effetto anche soldi vi ho detto un mucchio di fiorini l'idea di una pioggia di denari gli si può di colpo gli ultimi dubbi dello slovacco va bene li caccieremo la maniglia girò stridendo la porta del capannino scricchiolo e jereb uscì ma nemex non si trovava più sul tetto con l'agilità di un gatto era sceso a terra e correva come una freccia fra le cataste verso il luogo del raduno era agitatissimo sapeva che le sorti dei ragazzi di via palla a venire del tesso grunda dipendevano da in quel momento da lui non appena scorse da lontano il gruppo dei compagni cominciò a chiamare bocca bocca non gli giunse risposta continuò a gridare bocca signor presidente finalmente una voce gli risposa non è ancora arrivato nemex continuò a correre se bocca non era ancora arrivato stava certamente per strada il ragazzino era deciso a correre gli incontro poiché il presidente doveva essere messo al corrente della novità immediatamente non c'era un momento da perdere bisognava agire senza indugio prendere provvedimenti urgenti prima che fossero estromessi dal loro regno sbucando da dietro l'ultimo cumulo di legna per proseguire nella sua corsa dovette passare per forza accanto al gruppo dei compagni l'assemblea dei membri della società dello stuc era ancora in corso e veitz continuava a presiedere con una serenità degna di migliore causa quando scorse nemex che cercava di tirare avanti senza mostrare la minima intenzione di fermarsi gli grida oh signor segretario nemex senza nemmeno rallentare fece un cenno per dirgli che non poteva fermarsi signor segretario tono veitz indignato per sottolineare l'autorità che gli derivava dalla posizione di presidente agitò con forza il campanello non ho tempo ora gridò il biondino in risposta e continuò a cura